La Fiorida è un progetto che nasce 50 anni fa, quando ero piccolo. L'idea era quella di raggiungere il consumatore finale partendo dalla nostra terra. I valori che ci hanno accompagnato in questi anni sono stati i valori etici del rispetto dell'ambiente, rispetto del territorio e soprattutto rispetto del cliente. Siamo partiti dal latte, quindi all'allevamento delle vacche. Nel tempo poi abbiamo aggiunto la caseificazione dei formaggi e poi via via, pian piano, siamo arrivati al ristorante e alle camere. Ci siamo accorti che non era sufficiente rivolgerci ai mercati italiani, ma avevamo la necessità di rivolgerci ai mercati nazionali ed internazionali e quindi grazie attraverso questa grande opportunità di Babbel che la gran parte del nostro personale oggi parla inglese, tantissimi parlano tedesco e così siamo riusciti a coinvolgere sempre più clienti perché quando arrivano in Fiorida la grande peculiarità della nostra azienda è che ogni cliente si sente a casa propria. Fin dall'inizio la nostra struttura ha accolto con piacere gli ospiti stranieri provenienti dalla vicina Svizzera, dalla Germania, dall'Austria e anche una parte di clientela business americana. Avere uno staff multilingue è stato fondamentale, a noi piace molto comunicare con i nostri ospiti nella loro lingua madre, aiuta a creare quella giusta empatia e soprattutto quell'area familiare che chi va in vacanza ma anche chi viaggia per lavoro ama trovare in una in una struttura ricettiva. Ho personalmente utilizzato l'app di Babbel per un ripasso approfondito della lingua tedesca e l'ho trovato veramente utile tanto che abbiamo deciso di dotare tutto il nostro staff dell'app affinché ognuno di loro possa scegliere di imparare una lingua straniera. Welcome to La Fiorida, it's my pleasure to introduce you our most famous cow in the farm, her name is America.